ragazzi ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale per voi sono passati due giorni da questo spacchettamento per me pochi minuti perché i ragazzi oggi continuo a spacchettare la collezione adrenaline azzurri in collaborazione con s lunga anche oggi ci andiamo a spacchettare 10 bustine collezione che abbiamo visto veramente stupenda grafica pazzesca peccato che esca solo all s lunga ragazzi io non ho un s lunga nei paraggi ragazzi anche nemmeno nei paraggi ragazzi non è non c'è proprio un s lunga da me però ci tenevo tantissimo oltre che a vederla dal vivo a vedere la collezione tra le mie mani perché in foto sembrava veramente stupenda ma ci tenevo a portarvi un video perché me l'avete chiesto in tanti anche molti di voi non hanno semplicemente un s lunga vicino e quindi ragazzi le ho comprate le ho comprate su vinted grazie anche alle vendite delle mystery box e vi ringrazio tantissimo perché come sapete ogni volta qualsiasi euro che io vendo subito viene rinvestito per portare nuovi contenuti e questo è uno di quei casi attenzione perché queste bustine ragazzi le ho viste vendute a prezzi veramente folli perché c'è live del momento ma io vi ricordo che ogni bustina a sole tre carte ragazzi sole tre carte quindi mi raccomando attenzione perché ho visto bustine vendute anche a tre euro luna quindi attenzione attenzione ve lo dico io sono riuscito a acquistarle a 50 centesimi luna ci tenevo a fare il video per il canale e quindi l'ho fatto quanti super ho detto non lo so ma ragazzi andiamo a spacchettare primo video che dicevamo è andato bene tra l'altro vi ricordo ogni volta di lasciare un voto allo spacchettamento secondo me il video dell'altra volta non è andata male perché ci siamo trovati già la tempesta azzura femminile la numero 108 vediamo oggi di fare qualcosa di più QR code per voi soprattutto di non trovare doppioni lo dico perché ho già visto la prima doppione eccolo qui di marco in questa collezione piccolina sarebbe proprio fondamentale non trovare doppioni cristiana girelli e sotto tommasino baldanzi zaffiro ok dai quelle che troviamo oggi ce le mettiamo di qua alla sinistra così poi facciamo anche un confronto seconda bustina vi ricordo che all'interno di questa collezione ragazzi tra l'altro sta per arrivare il video dedicato proprio allo starter pack dove vi faccio vedere il raccoglitore che sarà un pochino più piccolino vi faccio vedere per bene la checklist ma intanto magari vi metto qualche foto collezione stupenda ma come dicevo anche nello scorso video peccato peccato la distribuzione che ce la tiene relegata ai soli s lunga attenzione perché tempesta azzurra maschile ragazzi tempesta azzurra maschile chiesa barella donna rumma e di lorenzo con un valore totale di 301 e sotto intanto roberta aprile zaffiro quindi andiamo a confrontare subito tempesta azzurra maschile femminile subito la numero 107 e la numero 108 della collezione e ragazzi vi interrompo un attimo lo spacchettamento per farvi vedere cosa mi hanno mandato gli amici di magliaco.com ovvero una maglia ragazzi in replica della roma dettagli come sempre pazzeschi curatissimi ma magliaco ragazzi non è solo maglie così ma ha anche tute anche maglie in edizione speciale come quella del milan quella della roma che vi ho fatto vedere su instagram o come ragazzi anche quella dell'inter con la tartaruga ninja ovviamente su queste maglie in replica ci potete far mettere qualsiasi patch ad esempio su questa della roma si a far mettere quella dell'europa league della serie a magari anche con la data così vi rimane anche la data di quella stagione ovviamente la potete personalizzare anche con numero e nome del vostro giocatore preferito o con il vostro numero e nome o cognome dietro alla maglia se la volete super personalizzata ovviamente a un prezzo bassissimo i dettagli per essere una replica sono veramente pazzeschi come sempre insomma ormai le conoscete con il codice sc potete ottenere l'ulteriore 10 per cento di sconto vi lascio tutti i link in descrizione e mi raccomando se le acquistate fatemelo sapere e fatemi sapere insomma come vi arrivano questi dettagli perché sono veramente pazzeschi detto questo vi lascio allo spacchettamento carte stupende soprattutto queste tempesta azzurra anche la carta zaffiro mi piace tanto tutta in bianco e nero con il giocatore in bianco e nero e la divisa invece colorata abbiamo matteo politano base qr code ovviamente per voi giallucone scamacca e sotto abbiamo con la numero 10 giacomo raspadori quindi dicevo video dello starter in arrivo perché lo starter invece è l'unica cosa acquistabile a 4 euro e 50 proprio negli esse lunga io per fortuna ho trovato un amico che me lo ha recuperato un amico gomma ma ci faremo un video proprio apposito sullo starter quindi poi ve ne parlerò per bene intanto abbiamo stella acerbi di lorenzo base e sotto la zaffiro di edoardo bove bellissima circa a metà spacchettamento ma io sono contento già intanto perché subito tempesta azzurra la zaffiro di bove insomma io abbastanza soddisfatto devo dire qr code per voi troviamo il mur zurro cristante e giorginio sotto abbiamo matteo darmian e sotto ancora laura giuliani quindi abbiamo detto collezione stupenda collezione che si trova solo negli esse lunga vi ho detto attenzione di non spenderci troppo da qualcuno che la rivende però come facciamo ad ottenerla carapanini perché non ci fai almeno almeno un servizio mancanti sul sito così magari ci andiamo a recuperare io mi andrei a recuperare quelle che mi mancano per finire la collezione ma magari ci andiamo a recuperare solo le carte dei nostri giocatori preferiti ad esempio guardate qui giovanni di lorenzo top player con questa olografia della panini sempre stupenda con la scritta panini così fatta a croce che è veramente stupenda magari ci andiamo a recuperare solo quelle dei nostri giocatori preferiti michela cambiaghi e sotto la zaffiro di marco nasti che ci fa la linguaccia nasti ci fa la linguaccia ma noi continuiamo a spacchettare ragazzi ovviamente voi sotto i commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa collezione se vi piacerebbe avere anche un servizio mancanti se siete riusciti a prenderla in qualche modo intanto barbara bonanzaia top player sotto abbiamo una zaffiro vediamo chi è gior giorgio diamo scalvini si esatto scalvini belle queste zaffiro e sotto un'altra carta sotto sopra che è manuel blocatelli quindi ragazzi mi raccomando sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto se volete vedere altri spacchettamenti di questa collezione perché magari non siete riusciti a trovarla non siete riusciti ad entrarne in possesso però magari vi fa piacere comunque vederla spacchettare allora fatemelo sapere perché magari ci investo anche qualcosina in più pur di portarvi i video perché mi fa piacere se vedo che c'è interesse vi faccio i video molto molto volentieri sotto abbiamo manuela giuliano della roma tra l'altro e sotto giovanni fabian zaffiro ultime due bustine per la fine di questo spacchettamento poi mi raccomando lasciate un voto a questo spacchettamento che sono curioso di vedere se prende un voto più alto del del primo qui c'eravamo trovati la tempesta azzurra femminile qui la tempesta azzurra maschile vediamo voi cosa cosa decidete qui abbiamo il più al code come sempre troviamo una doppiona che acerbi stella poi abbiamo giovanni di lorenzo base sotto una zaffiro vediamo chi è 77 di difesa 78 di centrocampo 65 di attacco è un difensore per molto probabilmente sì perché è rosso ed è andrea cambiaso ultima bustina io vi ricordo che all'interno di questa collezione si possono trovare anche autografate tra cui chiesa e patch ma ovviamente le bustine sono più spesse questa bustina è finissima perché ovviamente all'interno ci stanno solo tre carte quindi patch sicuramente no però attenzione perché l'autografo ragazzi è sempre dietro l'angolo perché da quello che ho capito l'autografo invece non è una carta più spessa quindi attenzione perché l'autografo si potrebbe sempre trovare top player nicolò barella doppione che ci interessa ma sotto vedo una carta base ma che mi farà molto piacere ed è proprio così perché è lorenzo pellegrini con la numero 10 speriamo che questo europeo se lo riesca a fare sotto la zaffiro la zaffiro di destini ud oggi che mi mancava dunque ragazzi per questo spacchettamento ci siamo trovati va bene pellegrini base che mi fa contento ci siamo trovati tre top player e soprattutto ci siamo trovati la tempesta azzurra voi che voto date a questo spacchettamento fatemelo sapere sotto nei commenti fatemi sapere se volete vedere altri spacchettamenti di questa collezione a me non resta che ringraziarvi soprattutto voi che come sempre arrivate alla fine del video e io ragazzi intanto mi vado a girare l'altro video su adrenalin azzurri